Signore e signori, eccoci qua ritrovati alla KitKat Break Room, io sono Terenas, qua affiancato dal carissimo Karen, e ancora una volta andiamo a vedere un altro match dell'Elisee, è il primo giorno della prima settimana e ogni match ci presenta tante sorprese, perché con tanti cambi di roster ovviamente tutto è nuovo. Esattamente, è la partita che stiamo per andare a vedere, ci presenta uno dei team che sono più curioso di andare ad osservare da vicino, stiamo parlando dei Rogue che andranno ad affrontare nella prossima partita gli XL, due team che sono partiti gemelli, uno di fianco all'altro e i Rogue adesso con Odoanne topside, Trembi botside e il Trittico rimasto tale quale con Inspired Larsen e Ansama, mi intrigano non poco. Dall'altro lato invece abbiamo Kryze sulla corsia superiore, Dan in giungla, Shekolad in corsia centrale e Patrick Ettore su quella corsia inferiore, degli XL rinnovati nel logo, un po' rinnovati all'interno del roster e hanno davvero tanto da dimostrare, purtroppo la run della Summer Split degli XL è stata discutibile, hanno avuto tante difficoltà e sembravano non intendere, non capire bene che cosa dovessero fare, spero che sia stata trovata un po' di stabilità da questi giocatori e dalla squadra. E ti dirò, questo è lo split dove sono io a tracciare la linea sulla sabbia, perché sono ormai quanti split consecutivi che continuiamo a dire, Patrick Ettore hanno un grande potenziale ma devono dimostrarlo, possono crescere tanto, possono crescere tanto, sono cresciuti anagraficamente parlando e il loro gameplay sembra essersi purtroppo negli anni precedenti un pochettino fossilizzato, di conseguenza questo per me è lo split dove Patrick Ettore devono dimostrare di poter fare il salto quantico, altrimenti purtroppo saranno un desiderio inespresso, saranno qualcosa che sarebbe potuto essere. Per quanto riguarda la formazione degli XL, mi piace che l'abbiano rinnovata sulla corsia centrale e con un ex vincitore degli U Masters come Cekolad, perché era storicamente la loro lane più debole, era storicamente la lane dove si sono incartati nell'off-season con problematiche di roster e non sono mai riusciti veramente a performare, di conseguenza Cekolad è un buon ingresso da loro, ma dall'altro lato mettere Odoamne in corsia superiore, che si è ossigenato anche lui i capelli in pieno stile Rogue, e far promuovere Trimby dall'Academy sul ruolo di supporto, ci dice due cose. Intanto che i Rogue continuano a utilizzare iperattivamente la loro Academy, il team che l'ha fatto meglio praticamente di ogni altro, forse i G2 che hanno promosso sia Caps che Reckless dall'Academy al team principale sono riusciti a sfruttare questa cosa meglio di loro, però ho tanta fiducia in questi Rogue, parlavo dei binari paralleli, Rogue ed XL sono arrivati insieme nell'EC e il livello adesso è nettamente diverso. Sono stati anche un po' i precursori, perché ricordati che quando sono arrivati questo roster dei Rogue, quando vedevi quell'Arsen sulla corsia centrale, era un momento in cui hanno deciso, bene, swappiamo letteralmente l'Academy con il main roster e vediamo cosa succede. Ed essendo stati i primi a farlo, molti più team hanno avuto la fiducia di dire, ma allora possiamo usare davvero i roster secondari? Prima era un po' un, sì, li tieni là, in caso qualcuno davvero brilli in maniera fuori di testa nel campionato regionale, dici, allora possiamo utilizzarlo. Ma loro sono stati proprio un, ci fidiamo, ci fidiamo davvero del nostro secondo roster. E la cosa, nel contesto storico, prende ancora più importanza, perché quello era poi l'anno dove i Misfits, con la stessa identica mossa, vennero additati come organizzazione genocida, tanto avevano mandato al macello un'Academy senza saperla gestire. Quindi è stata una mossa azzardata, audace, ma di successo. Signori, è arrivato il momento, il terzo match di questa serata, in cui andremo a vedere il nuovo roster dei Rogue affrontare il nuovo roster degli XL. Tante emozioni, tanto da dimostrare soprattutto per gli XL. I Rogue mi sembrano già più solidi di partenza. Oh, sì. E anche loro hanno un nuovo logo. Tra l'altro, sì, hanno pulito il rebranding anche per loro. Il logo è simile, ma molto più pulito, non ha più quel ciuffo di spaghetti che usciva dalla maschera, dal cappuccio. Detto questo, per chi non conoscesse Trimby, Trimby è un giocatore meccanicamente molto, molto capace. E immaginare due giocatori come Ansama e Trimby affiancati, Ansama anagraficamente giovane e professionalmente tutt'altro che giovane, questa composizione dei Rogue vede il giocatore che ha iniziato più tardi di tutti a giocare competitivo, che ha iniziato a 17 anni. È assurda sta frase. Cioè, sono giocatori che hanno iniziato veramente da giovanissimi a masticare il competitivo, per questo ho così tanta fiducia in loro. E poi la guida di Odoanne, che va a sopperire al ruolo da portabandiera di quello che era prima Wander. Kaisa Rimossa, Talia e Camille Rimosse, Panteone e Olaf ci salutano. Akali è ancora open in Europa per ora. Sì, per ora tranquillamente presente. Nel primo match tra G2 e Mad Lions non era disponibile. Già. Bannata però, non ricordo se in seconda o in prima rotazione. In prima, in prima. Ok. Infatti eravamo, dici, ok, anche qua bannano Akali. E invece no, secondo e terzo match, ancora nessuna Akali. Magari nella seconda rotazione, però, se non lo banni nella prima, vuol dire che non ti fidi molto a giocarla. Quello Lucian... È per Larsen. Sì, sono assolutamente d'accordo. Nel game precedente era bannato, proprio dal lato blu della mappa. Lucian è attualmente uno dei campioni che riescono meglio di tanti altri ad abilitare i tiratori su ruoli non usuali, ovvero la corsia inferiore. Quindi, un tiratore potenzialmente da mid. Quello è Udyr! Arriva Udyr, l'abbiamo visto in Corea, lo vediamo adesso anche in Europa. Dan decide di sfoggiare l'uomo orso. L'orso matto con Chemtank Turbo nella sua versione da punizione e spettralità. Non è l'uomo orso maiale. L'uomo orso tigre, tartaruga... Fenice maiale. Fenice cose. Effettivamente, Udyr, l'aggiornamento sulla narrativa, dato che si parlava di narrative, lo definirei più che maiale... Cinghiale. Perché Udyr, all'interno della narrativa del Freljord, è il padre spirituale di Sejuani. Adesso. E, tra l'altro, sono curiosissimo di vedere un suo eventuale rework. È abbastanza complicato perché, tecnicamente, adesso Udyr potrebbe trasformarsi in 32 forme diverse. È una cosa assurda. L'invoker di League of Legends, praticamente. Che picchia corpo a corpo. Sarebbe un tale meme se succedesse, però non penso succederà. Tra l'altro, questo ci apre anche importanti narrative sul Freljord, perché la parentela del Freljord non è data dai legami di sangue, quanto più da legami sulle azioni. E poi c'è una parentela a parte, definita dai legami di sangue. È così complicato il Freljord. Non cominciamo perché... Quella è calista per Ansama! E poi... Sì, scusami. E mi funziono con poco. Sono felice di essere tornato in L.C. Allora, già Udyr era strano. Abbiamo già visto Pioshing giocarlo in L.C. Quindi non è niente di strano per davvero. Però vederlo proposto così presto in Europa mi stupisce non poco. Adesso vediamo Calista. E Ansama. Ok, e Ansama. Cosa buildi? La Gale Force. Arco Scudo. Arco Scudo? Puoi fare anche Tempesta Impetuosa, ma penso che l'Arco Scudo attualmente sia l'opzione più sicura per Calista. Vuoi rimanere in partita il più a lungo possibile e quindi Arco Scudo, Uragano di Runan, con poi Furia di Guinso, Lama del Rey Rovina. Puoi metterci davvero di tutto in quella build ora come ora. E voglio vedere, Ansama, che Calista ci presenta. Però se avesse quella Gale Force potrebbe tirare lo scatto in avanti per colpire con un'altra lancia. O per morire dai chakram di Aphelios. Ah beh, dai. Allora, per carità, la Gale Force è plausibile, perché è plausibile su davvero tanti campioni. Il punto è che contro Aphelios quell'Arco Scudo ti serve. Quello è vero. Hai bisogno di sustain in più. Per quanto ci sia Groomstone Lilia possibile, disponibile al tuo fianco. A questo punto io punterei a Lucian Top con una Seraphine Mid Double Groomstone e un Tank Support, come Nautilus. Oh mamma, terrificante come cosa. Parlavi prima di Syndra ed ecco la bannata. E Nautilus, che ho appena chiamato, ho bannato anche lui. Quindi per adesso lo script sta andando nella direzione giusta. Ultimo banna da parte dei Rogue. Kali continua ad essere ignorata. E Kalista-Rell come risposta a Thresh Aphelios. Rell contro Thresh non lo voglio mai, 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 mai vedere. È simile a Leona il matchup, però il problema è che Leona è peggio. Leona è ancora... Cioè, almeno Leona puoi cercare di ingaggiare da un cespuglio in maniera di soppiatto. Rell è veramente lenta di ingaggiare. È così facile spazzarla via. Certo, il potenziale da teamfight che ne consegue però è grosso. Quindi è una scommessa che puoi giocarti. Trimby però è un gran Rakan. Quindi potrebbe arrivare Rakan in questa corsia inferiore proprio per giocare teamfight di fianco a Kalista e Lucian. Potrebbe arrivare... Oddio. Beh, lo scopriamo adesso, perché gli ultimi due pick di Rogue devono essere lockati adesso. Dopo la selezione di Zoe su quella corsia centrale, lato Excel, sono tanto stupito di vedere così tanta creatività. Set contro Thresh invece. Purtroppo si stacca dalla... Hai caster cursato la creatività. Aspetta, aspetta, c'è ancora l'ultimo pick di Rogue. Quello è vero. Magari ci stupiscono mid lane, tirano fuori un Kassadin. Oddio, Kassadin non è messo male, ma ne parleremo di questo, se mai dovessimo vederlo. Larsen è anche bravo con Kassadin. Vero. Larsen è bravo con... League of Legends. Kennen? Blind addirittura. Beh, è Odoanne. Effettivamente abbiamo sempre detto, se c'è qualcuno che è legalmente autorizzato, l'unico giocatore in Europa legalmente autorizzato a blind pickare Kennen, quello è Odoanne. Assolutamente, perché i suoi flanks sono davvero assurdi. Vederlo ogni volta giocare questi campioni è così strano. Ha un grande amore per gli Yordle, perché anche Poppy è nelle sue corde e riesce a giocarla in maniera incredibile. Allo stesso tempo voglio vedere contro cosa dovrà giocare. Wait, è un Dirtop. È un Dirtop. È un Dirtop. O è Ivern Top? No, non è Ivern Top, dai. Aspetta, cosa? Te l'ho detto, te l'ho detto. Aspetta, aspetta, perché quello è Ivern Top. Te l'ho detto. Quello è Ivern Top. No, no, è uno scherzo. È Kryze. Sì, sì, ok. Infatti sono confusissimi. Tipo, aspetta, hanno davvero locato Ivern Top. In un meta di Grumston solo lane Ivern ha il suo potere. Ed è un potere che può splendere come solo laner, però devi essere veramente un pazzo folle maniaco sgravatissimo per fare una cosa del genere nel match di debutto dell'Elysee. Quello, signori, è Ivern Top. Volevi la tua creatività? Eccola, eccola. Aspetta, Ivern che inizia dal Red Buff insieme a Udyr lo smite apprendendolo. Lo condivide con Ivern? No, serve livello 5 per attivare la passiva della condivisione. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Purtroppo no. Il mio theorycrafting è partito fin da subito, ma sono così curioso di vedere che cosa si inventano questi due team in campo. Perché, signore e signori, Rogue ed Excel stanno per entrare sulla landa degli vocatori per il terzo match di oggi e debutano gli Excel con un Ivern Top. C'è Golad con Erdub Matto in preparazione alla partita. Signori, non so neanche che cosa dire per caricare questo game. Mano agli hashtag, RGWin versus XLWin. Vorrei chiederti l'hashtag, ma poi mi sa che mi diresti gli Excel perché hanno Ivern Top. E il tuo hashtag a chi va? No, 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 no. No, 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 non voglio dare hashtag in questa partita. No, no, ma non devi darlo, però devo dirlo per contratto, cioè... Lo sai, mi sento anche un po' male se non me lo dici. Dormo male la notte. Ivern Top, signori. Te l'ho detto, quando ho visto Ivern c'era da aspettarsi qualcosa del genere. Ed è Ivern con evocazione di aerei. Ivern che quindi giocherà alla corsia come campione da Arras e non va sottovalutata a Daisy. Bisogna considerare che la build da Groomstone permetta ad Ivern di accumulare un quantitativo di potere magico semplicemente gigantesco. Questo significa che le sue abilità e poi Daisy di fianco a lui diventano minacce molto importanti. Non solo, dai a Udyr anche un rallentamento nel momento in cui poi va a ingaggiare con la forma Orso, quindi dai un'ulteriore utilità a un campione corpo a corpo. Guardalo, guardalo. Starta di Cespugli. Si mette in mezzo alla lane, dentro ha un Cespuglio. E non puoi fare niente? No. È molesto, è molesto e basta. Perché ho la sensazione che domani ti vedrò in streaming con Ivern Top Lane? Effettivamente è uno dei pochissimi ranged top laner che non gioco per ora ed è una cosa alla quale devo assolutamente porre rimedio. Così è inferiore. Trimbi e Ansama prendono immediatamente priorità. Giustamente vedendo anche la pioggia di lame su Ansama. Non ci stupisce questo. Tra l'altro ho finalmente raggiunto una pietra miliare nel mio essere una persona assolutamente despicabile. Mastery 7 su Time Can't Stop? No, sono finalmente, ufficialmente non più un main Malzar, ma sono un main Queen. Ah ok, cioè hai scambiato un vizio per un altro, quindi non ha cambiato la tua posizione a livello di karma. Inspired, clear completo sul quadrante inferiore. Però vediamo in questo Udyr con la sua forma da fenice riuscire a imporsi sul clear iniziale di Lilia. Questo ci dà un'indicazione molto importante sul perché Udyr stia tornando in competitivo. Pulisce, pulisce in fretta. E poi con il Kemptan può correrti in faccia a Mach 5. Esatto. E dalla prossima faccia lo buffano pure. Ok, quella era una bellissima bolla. Davvero, da parte di Cecolad, molto bella. Il fatto che Dan abbia il conquistatore, non è... Scusami, scusami, è così molesto, è così molesto. Non puoi neanche combattere perché ci provi e letteralmente vedi Kennen che non vede più il suo bersaglio perché entra in un bush. O si scuda e quindi il trade non va a segno. Dicevi conquistatore da parte di... Udyr. Ah, di Udyr. Non c'è lo scatto fasico. Beh, appunto. Kemptan preferisci le statistiche perché comunque sai che raggiungerai gli avversari. Salvo non siano una Nidalee e facciano avanti e indietro dalla tana del drago, ma quello l'abbiamo già visto. Ma il nostro signore Pioschik va di scatto fasico anche con il Kemptan. Quella TAN! Prepotentissimo. Questa, questa è la meinanza di Udyr. Beh, c'è da dire che hai andato di scatto fasico contro un campione ad alta mobilità. Vero, anche questa. L'Ilia puoi semplicemente correrle contro. E hai la spettralità per quello. Scusate, ma vedere Udyr che corre in faccia alla gente mi fa pensare al League of Legends andato. Questa è una versione davvero strana di League of Legends, devo ammettere. Vuoi Ivern che ha priorità su Kennen topside? Vuoi quel... Mamma mia. Mamma mia. Io vorrei vedere i livelli di Ivern. Quanti punti ha messo su quali spell? Immagino abbia maxato lo scudo per mitigare il danno in entrata. Però non l'ho dopo scontato. Esatto. Un catturadice con Udyr è un concatenamento di controlli così semplice nella sua essenza, ma così efficace poi in partita. Ovviamente Udyr che parte di scarpette. Questo non ci stupisce. Patrick costretto a disingaggiare immediatamente appena vede Inspire arrivare. Oh oh, quanto sta rischiando Tore. Sì, flash difensivo per lui. È stato un bel inserimento da parte di Trimby che mette giù l'ustione. Cooldown non paragonabili, ovviamente l'ustione e flash, quindi ne escono vincitori i ROG ma dando informazioni su Lillia. E Dan ne approfitta per continuare il suo pattern di power farming. E Udyr, d'altronde, deve fare quello, no? In tutto ciò però Patrick è pesantemente indietro a livello di farm. Ok? Sei contro Kalista da P.O.J. Lame, quindi sai che in early game non puoi combattere, devi stare estremamente attento. Però mettere il tuo team a 300-400 gol di svantaggio non è il massimo. È la Kalista di Ansama, tra l'altro, è proprio un campione a parte. Ansama è così bravo a pilotare questa tipologia di campioni iperaggressivi in corsia. La sua Kalista, il suo Draven, storicamente il suo Varus, sia un hit che da letalità, sono sempre stati delle minacce giganti per il Rift. Trimby si sposta sulla mappa, vuole dare supporto alla corsia centrale o probabilmente due proximity nei confronti di Lillia sembrerebbe. Sta facendo da satellite per la Cerbiata, il Cerbitau, per essere precisi. E questo voleva dare copertura su cosa? Perché penso che sia stato un brutto adattamento alla posizione. Ah, vogliono daivare l'Uomo Foresta. Daisy non c'è, non c'è il mana. È molto fragile, Krizz, è anche comprensibile poter provare a ingaggiarlo. C'è il flash disponibile da parte di Trimby, Krizz non può fare nulla. Ed è primo sangue per Inspired. Non solo, in tutto questo abbiamo Kennen che ha accomodato una grossa ondata, probabilmente sul respawn e teletrasporto perderà un paio di minion, cortesia di quello cannone che sta tankando sette colpi di torre. Però la differenza in farm adesso c'è. Abbiamo la gemma infuocata, quindi confermata l'intenzione di Ivern Top di andare per la build Pietraluna rinnovata. Deve essere un po' più attento da qui in poi. Non puoi lanciare così il tuo mana in faccia all'avversario e sperare di non essere punito. Forse si aspettava di poter tornare in base pensando che Kennen non avrebbe usato troppo. Vogliamo parlare del fatto che Zoe non droppa più la redenzione. Aspetta, nella 11.2 non lo dropperà più. Nella 11.2, sì, ma siamo in quell'universo. Vogliamo parlare di quanto è bella la vita, di quanto ci sorrida la vita in questo periodo. I colori sono un po' più intensi, la luce del sole è più forte, il verde è più divertente. Ma non è un colore creativo il verde, lo sappiamo. Assolutamente. Kryze accumula l'ondata, tanti minion caster per lui, vuole pushare aggressivamente verso l'avversario. Odoamne però legge la situazione. Ha deciso di non aggredire quei minion, si è concentrato sulla parte dei minion corpo a corpo. Questo significa che sfrutta la wave avversaria accumulata per un push a suo favore. Odoamne ha un wave management che è eccellente e il vantaggio in farm è ovviamente un'indicazione chiara di questo. Immagino rocket belt per Odoamne. Sì, sì. C'è l'opzione da mietitore per lavorare sulla velocità d'abilità come passiva mitica, però in questo momento la cintura a razzo è così forte. Bello sordimento da parte dei trimmy, però molto azzardato questo trade. Ansama infatti non riesce a fare molto, la gittata è troppo grande. E non solo, c'è la gittata troppo grande per via del Calibrum e poi Chakram. Raccoglie una cintura a razzo, quello è tanto danno in corsia, quindi Larsen non può permettersi nessun tipo di estensione. Ivern va adesso a raccogliere il red. Ah, yes. The red buff against Kenden. E diventa ancora più molesto in corsia così. Terrificante. Però guarda la differenza in minion che si è andato a creare. Quello è Odoamne, eh. Non è solo il match-up Ivern contro Kenden. Chiaro, chiaro. E Odoamne che ha messo giù davvero un wave management perfetto. Sta portando il wave management di Kryze contro lui stesso. Io non so come tu abbia riconosciuto così in fretta a Rocket Belt. A me sembra un mattone quell'icona. Tranquillo. È che gli attivabili di Zoe non hanno l'animazione dell'oggetto mitico e quindi sembrano... Non c'è la scia azzurra del raggio. Esatto, esatto. Oddio, se Zoe dovesse lanciarti un mattone in testa durante la fase di corsia sarebbe a quanto violento da parte sua. Una nuova attivabile. Mattone. Bro, una skin per Mundo in cui invece di lanciare mannaie lancia mattoni. Mundo sono così aiutato dall'idea del rework. Danna sulla corsia inferiore. Punta una dive. L'ondata è stata accumulata e la posizione è anche molto buona per Daivare Odoamne. È Odoamne però, eh. Infatti non rischi contro Kennen di Daivare. Ti prendi una placatura, ti rendi conto che c'è anche Trimby e dici vabbè raga andiamo a casa va. Sì, sei felice così. Alla fine stai comunque giocando in vantaggio numerico ma adesso che Udir si è dovuto allontanare da quella zona perché aveva già dichiarato le sue attenzioni non potevi premere più di tanto. Danna continua a spammare le sue varie forme per muoversi più velocemente sulla mappa ma questo gli sta costando mana. E questo costa anche probabilmente il primo mattone perché il messaggero è stato evocato topside da parte di Lilia e sarà un primo mattone che finisce nelle tasche di una calista isolata. Ma ok volerò uccidere Odoamne a tutti i costi ma ragazzi non avete l'ondata di Minion, ve ne rendete conto? E soprattutto c'è Visione, c'è Set che a livello 5 sperano di utilizzare questo frangente pre-suprema. Oh, sembrava avesse connesso. Gli Excel sono tutti lì presenti, il messaggero intanto in top lane colpisce la torre interna. Un nuovo significato di Aphelios, 200 anni persi in corsia inferiore. Non quello che speravo da parte del debutto degli Excel, già 2800 gol di svantaggio a 10 minuti con una singola kill. Ora sono 3000, oh mamma. Però è esattamente quello che mi aspettavo dal debutto dei ROG, un macro super costruito, un team che sta giocando bene di mappa e Odoamne è aggressivo. Arriva la lanterna, proveranno a ingaggiarli anche sotto la torre, no, lasciano perdere. Beh, è stata una bella fuga. Ti costa solo il flash da parte di Patrick e niente più? È stata investita la Suprema da parte di Inspired, quindi comunque di nuovo vincono i ROG a conta di cooldown, però va bene così. Alla fine Ivern ha maxato gli scudi. Beh, alla fine sono efficacissimi per il tradeback, l'avevi già sottolineato, quindi... Devo ammettere di non essere molto sapiente del matchup Ken e Ivern, non è quello che mi sarei aspettato di dover castare oggi. Ancora ancora su Udyr dici qualcosina possiamo preparare grazie a Piosic. Ho i dati, ho i dati su Udyr, su questo matchup top no. Che meraviglia. Che anche Kennen poi, se ci pensi, Kennen sì, potevi aspettartelo magari da Odoamne, non è che lo vedi così spesso in giro per la lanza, gli invocatori. Kennen, devo dire che a livello di dati ci ha salvato più la pre-season che la season, un campione che in diverse fasi di gioco ha provato a prendere importanza, ma che è un campione che è a pannaggio solo di giocatori che sanno pilotarlo davvero davvero bene. Calista è alla sua settima placcatura raccolta, questo ho come l'impressione che possa diventare un problema da qui in poi. Anche perché Calista ha 2k gold in più di Aferios. 8, 5 top e adesso 3 bot. No, no, dico Calista nello specifico, lo vediamo qui da, proprio solo Calista ha 2k, ah, 8 placcature. Sì, 8 placcature. Avevo cortocircuitato il cervello immediatamente, pensavo ti riferissi alle migliaia unità d'oro. Sì, 8 placcature adesso. No, per i soldi sono molto semplice io, sono per... è povero o è ricco? In questo caso è ricco. Mi piace. Larsen cercava in qualche modo di lastrittare, almeno il germoglio gli verrà concesso per farsi perdonare il potenziamento blu. Udyr inizia ad alleggiare qui e lì sulla mappa, ma sta facendo succedere molto poco in questo early game e non è così che vorresti un Udyr. Certo, gli XL hanno comunque l'utilità di Ivern top con una Aferios, un hypercarry all'interno della loro composizione, a differenza di due tiratori non storicamente noti per il loro scaling come Lucian e Calista. Quindi, per gli XL la possibilità di vincere tramite stallo è comunque una condizione di vittoria, non dobbiamo dimenticarci questo nell'analizzare l'uptempo di game che gli XL stanno presentando. Assolutamente, ma quando vedi una Calista dominare in maniera così efficace contro una Aferios e non permettere nessuna azione di intermezzo... Cioè, in punto questo, tu dici, ok, possono provare a accumulare gli XL, ma i rogue stanno out-ruotando i loro avversari, se mi posso permettere. Puoi permetterti sì perché è vero, voglio dire, stai sputando fatti, non è una cosa per la quale devi scusarti. Effettivamente i rogue stanno giocando la mappa dieci volte meglio dei loro avversari. Quando definivo lo scaling e lo stallo come condizione di vittoria, era più un piano d'emergenza per gli XL che il come stanno giocando o in condizione di cosa stanno giocando. E uno, se tutto dovesse andare male, possiamo stallare e scalare. Al momento, sembra che stia andando tutto male. Perdono torri, perdono draghi, perdono kill, perdono in farm. Guarda l'anna, niente da fare. Larsen, sono curioso di vedere se sarà tempesta o uccisore di Kraken, ma contro Zoe vorrei la tempesta. Hai bisogno di quel minimo di mobilità in più, ma anche contro Udyr. Avere uno scatto ti aiuta e non poco. Odo Amne, i danni ce li ha dalla sua, ma Kryze non è da meno. Knock up di Daisy che arriva finalmente. Il red buff basta e alla fine i rallentamenti però non ci sono. Lo scudo viene proccato, ma a distanza di Kennel, perché flasha via! Non aveva il catturadice disponibile, altrimenti il follow-up tra lui e Daisy sarebbe stato interessante da vedere. Aio. Patrick ha preso dei bei danni. Kalistalla vuole veramente quella non la placatura. Però adesso con Tore è un po' più difficile. Flash bear slap. No, non c'è il flash qui. Pronto a correre. Preso. Però ha fatto flash purificazione e si salva Larsen. Inspired che vuole andare per l'addormentamento doppio. Lo trova. Sta arrivando Kennen. Troppo di corsa per Oje. C'è Colad. Facile fuga per lui. Si è mosso bene, ma ha anche investito tanto. Andate sia tutti gli incantesimi dell'Evocatore che ha raccolto per strada, sia i propri. Purificazione utilizzata per la velocità di movimento cercando l'ingaggio, senza considerare l'eventuale presenza di Lilia. Quindi C'è Colad ha premuto forse un po' troppo forte tutti i tasti che aveva a disposizione. Potevano cercare di più. O potevano spendere di meno. In ogni caso, bisogna muoversi meglio se si vuole tenere testa a questi rogue. Che vedono la loro gold lead aumentare ogni volta che ha il sogli occhi al tabellone. Molesto comunque Ansama. Addirittura sotto la struttura si tanca un colpo di Torrebur di provare a bloccare Patrick nel richiamo base. E si prende anche la seconda torre. Sì, quindi abbiamo due strutture prese in solitaria per Ansama che sta staccando di due livelli Patrick. Tutta l'esperienza solitaria, tutto quel gold locale. Quella è una calista che chiude adesso gli stivali e probabilmente il pugnale dell'Ira? Trova... Oh! Una Rageblade intera! Ok! Oh! Oh! Ok! Non ero pronto. Non ero pronto. È comparsa una furia di Guinso, ragazzi. Beh, voleva spikeare nel mid-game. L'hai sottolineato prima come il loro punto forte della partita. Diciamo che una Rageblade intera ti aiuta non poco in questo concetto. Guarda l'inventario dei due tiratori. È impressionante la differenza. Allora, facciamo la conta veloce. 1280 gold di placature, più il primo mattone che sono altri 610 gold, sono 1890, più 300 gold che ha preso Bot, sono 2190 gold totali che ha preso solo dalle torri. Oh, poi ragazzi, ditemi che le kill contano di più, eh. Beh, potrebbe riprendere anche delle kill volendo. Patrick, finalmente viene lasciato un pochettino in solitaria con la struttura, riuscirà a riequilibrare almeno la corsia inferiore e... È una magra consolazione. Almeno gli permetterà di chiudere il suo oggetto. Dai, ora sì, sono soltanto 1890 gold da recuperare. Easy peasy. Graiz, arriva al scudo che fa detonare parte dell'ondata. Per adesso partita abbastanza tranquilla per lui. Completato il chemtank turbo per Dan. È arrivato il momento di iniziare a farsi vedere su questa mappa però per lui, perché Udir 0-0-0, una partita 1-0 al sedicesimo minuto. C'è Udir e non siamo in LCK, mi stai dicendo? Ho sbagliato a conta, 1980 gold che ha preso da tutto quanto. Ok. Ho sbagliato i 200 gold, perdonatemi. Peggio ancora, in effetti. No, era 2100. Struttura cade, struttura cade. Per un soffio ma cade. Tre strutture per i rogue, sono già quelle esterne. Contentissimi prendere il controllo della situazione. C'è anche la torre interna top, basta in salute. Quanto stanno rischiando i rogue a essere così esposti, però gli Excel sono tutti pronti. Trimby è pronto a combattere, andrà di Suprema, prende tempo con il cronografo almeno per ora, Ansama lo richiama dentro il suo corpo. C'è Golad che trova Trimby, ci prova Dana in seguire su Inspired, arriva a Suprema in Kennel per difendere e il Drago finisce in mano agli Excel, con un tentativo di ingaggio anche Daniel Povero, Odo Amne che cade per mano di Patrick, colmano un minimo il divario, sono adesso sui due Draghi, c'è ancora tanta strada a fare, tanta. Sì, mi ha impressionato il tabellone perché comunque il divario dopo un'azione così bella rimane tanto. Qui sono molto curioso di vedere che cosa sia successo perché sembra che la chiamata del fato di Kalista abbia impedito alle facce sfasciate di Seth di funzionare e che Seth sia poi morto all'inizio dell'animazione del pezzo forte. Quindi praticamente ai nostri occhi è sembrato che Seth stesse solo camminando in mezzo al team nemico, ma Seth stava provando a premere ogni singolo tasto e nessuno dei suoi tasti stava funzionando, vuoi per i suoi alleati, vuoi per i suoi avversari. Beh, ha fatto una bellissima t-pose con le facce sfasciate. Sì. E basta. L'azione dei Rogue è stata purtroppo messima e questo rimette gli Excel almeno spiritualmente in partita, gli permette di avere un edge mentale un po' più forte per cercare di rimontare e devo dire che si sono anche mossi molto bene gli Excel. Hanno protetto bene Patrick, l'hanno catalizzato correttamente, anche cortesia di Ivern e di Daisy, il campione in più che vanno a presentare gli Excel durante questi teamfight. Trimby doveva cercare delle tempistiche più generose e non le ha minimamente trovate. Quelli erano danni, quelli erano decisamente dei danni. Non insiste Cekolad perché comunque c'è l'arco scudo, gli avrebbe dato lo scudo extra e quindi non avresti trovato la morte di Ansama, ma... Ecco, diciamo che non vale la pena ingaggiare uno contro due per cercare di proccare una passiva. Decisamente no. Excel che per ora vogliono continuare a scalare su Patrick, è la loro principale speranza e questo è un Aphelios ben più pericoloso del match precedente. Prima poteva scattare, adesso può tirare danni puri. Adesso può uccidere. Parlando di può uccidere, abbiamo Larsen che comunque prende anche lui l'Uccisore di Kraken spostandosi su Fulgore per Predatore d'Essenza. Questo significa che Larsen opterà per la build da Lame Navori e quello è un grosso spike per Lucian. Quando Lucian chiude come terzo oggetto del Lame Navori diventa praticamente Urf Lucian. Continua a scattare, continua a muoversi. E a spammare abilità che con tutto quella di bonus fanno anche dei danni molto importanti perché comunque tra Lame Navori, tra Predatore d'Essenza e Uccisore di Kraken hai veramente un bel po' di addi nel tuo inventario. La velocità d'attacco non è un'opzione valida per Lucian, tanto che appunto gli stivali non sono quelli del Berserker ma quelli di Ioni. Danno così tanta cooldown redaction, ability haste. Larsen sta rischiando tanto ad essere così esposto. Senza visione non è la scelta che dovresti fare. Infatti arriva di corsa, Dan decide di lasciar perdere. Hanno spottato qualcuno, no? Perché 7 era verso la corsa centrale ma non c'era visione. Lillia pure. Hai in mente le mot del ranocchio di Nico Guardiana Stellare col punto interrogativo in testa? Sì, sì, sì. I miglior punti di domanda. Sono così in questo momento. Dico, eh? Vanno a chiudere. Ci prova Trimby. Trova Dan. Trova Notore. C'è visione. Bello Lucino. Inspired. Oh, qua che grosso rischio. Dan che si lancia di seguimento. Decide di lasciar perdere. Rogue. Che sono ancora al sicuro. Sì, hai preso il flash di Inspired. Andato Excel. Però non ti basta prendere un flash. Vuoi di più. E Lillia comunque è una Lillia ancora senza Clessidra di Zonia. quindi puoi provare a giocare intorno all'idea di chiudere su di lei subito dopo. È una Lillia che con quel tormento di Liandry comunque dovrà esporsi in fight per cercare di continuare a mettere giù danno percentuale. E quindi è una Lillia che potresti punire in assenza di flash. Quando c'è un potresti nella frase vuol dire che finché non l'hai fatto l'azione purtroppo è stata inutile. E quindi hai bisogno adesso di chiudere su Lillia e capitalizzare su un obiettivo dopo la morte del jungler nemico. Rise. Buono anche il catturadix qui per bloccare l'avanzata di Utohamne. che addirittura usa la cintura a razzo pur di colmare la distanza ma non ci riesce correttamente. Rise avrebbe avuto comunque il flash per disingaggiare quindi non era la più grande delle minacce per quanto stesse arrivando il resto del team dei Rogue. Rogue che hanno giocato molto metodico nei primi dieci minuti e adesso stanno un po' rallentando. Questa presa viene a mancare. E Utohamne ha deciso di completare una Void Staff per intero. Bene. Quello è piacevole senza ombra di dubbio. Oggetto che si sta imponendo sempre di più nelle parti primordiali dell'inventario dei campioni di potere magico perché serve penetrazione flat e serve penetrazione percentuale per giocare in questo momento del meta dove le statistiche flat di per sé non sono così grandi in favore invece di grandi effetti all'interno di oggetti vari ed eventuali come appunto la cintura a razzo che comunque è stata nerfata. Sono curioso di vedere come decideranno di utilizzarla. Parlando di curiosità, è anche curiosa la build di Ansama rendendosi conto di aver rischiato il 100-0 da parte di Zoe l'itemizzazione è un hit di Ansama vira verso la speranza perduta. Una Witsand per lui un po' di mobilità in più che male non gli fa mi piace come scelta sinceramente. Sì, non male. Presso il blu vanno sul Drago questo porterebbe gli Excel a soul point Odan li ha spottati cercano la chiusura a Tenaglia partendo dalla corsia centrale ma c'è visione difensiva e c'è Zoe Oh, Trimby, non di nuovo poco prima del Drago arriva la nanna Oh, l'attormentamento doppio costretto a flashare addirittura attraverso il muro C'è Colad buono questo perché hai preso un flash un flash a Zoe non è la risorsa più grossa da prendere Esattamente Kryze condivide il potenziamento blu lui e C'è Colad adesso hanno quella risorsa dalla loro continuano a zonare con Patrick che danno da parte di C'è Colad che bravo Trimby purtroppo ancora una volta tanto esposto sì, è un tank non è un tank che può prendersi tra i denti una stella vacante di Zoe le Paddle Star fanno male ragazzi e adesso a soul point gli Excel per quanto sotto di 4000 gold si, fanno paura fa ridere perché tu vedi la composizione dei rog vedi Ansama con 300 gold di taglia vedi Larsen con 150 gold di taglia sono tutti 0-0-0 quei tiratori stanno continuando a mangiare Minion come se fossero fatti di zucchero filato specialmente Ansama 257 a 23 minuti Larsen continua inoltre a insistere in side lane quindi continua a prendere tante esperienze in solitaria livello di vantaggio nei confronti di C'è Colad così come si mantiene il livello di vantaggio di Ansama ma Patrick su quello ha recuperato un pochettino è così perfetta l'immagine del zucchero filato perché sai cosa ho pensato prima o poi ti verrà l'indigestione e non riuscirai a fare nulla è vero anche quello perché a un certo punto non puoi semplicemente continuare ad accumulare se gli avversari scalano meglio di te e parlare di scaling quando si parla di composizione a singolo filatore eh vabbè Trimby però figliolo ti ha i piamo e poi ci fai questo dai beh ho detto che era un gran Rakan non ho detto che era un gran set Trimby purtroppo non sta avendo una bella partita e quello che tra l'altro è un set da canto di guerra di Shurelia beh questa è ancora la patch dove il chemtank turbo costa tanto quindi se sei rimasto così indietro come supporto ma vuoi comunque poter ingaggiare con set lo capisco è una scelta molto sacrificata il chemtank turbo sarà così forte in 11.2 assolutamente d'accordo i supporti ne abuseranno parecchio e aggiungo anche che sono felice di ciò è un oggetto interessante per i supporti gli hai rimosso la gloria del giusto quindi dovevi dargli qualcosa per sostituire per quanto si tratti di un oggetto mitico è giusto regolare il power budget di conseguenza specialmente perché la stat line non è più forte in maniera a sé stante sono poche le resistenze adesso devi lavorare con il resto della build sempre questi 4000 gold di vantaggio ma nulla da fare per i rogue oh quanto stanno rischiando finalmente Otto Amner riesce a trovare un bel ingaggio ai danni degli Xceler era il momento di ingaggiare ed è stato perfetto Ansawa si lancia e trova l'eliminazione di Danny Patrick proveranno pure a prendere danno e ci riesco anche C'è con la Ciproma è disperato doppia uccisione trovata Larsen chiude per la carneficina per l'Ace dei Rogue parlavamo di 4000 gold di vantaggio parlavamo di farli fruttare Baron Ace meglio di così non poteva andare sono assolutamente d'accordo Ansama è lì a tancarsi di faccia il Barone Nashor mentre Larsen sta anche bruciando in tranquillità l'ondata era stata anche set upata da parte dei Rogue che fanno fruttare l'ottimo macro che ci hanno dimostrato già nei frangenti iniziali di questa partita ha conquistato il Barone Nashor il buff permane su 5 anche perché stavolta Trimby se l'è giocata veramente bene si è fatto perdonare ha rimediato in maniera eccezionale e qui quello stordimento non solo lo stordimento ma il tempo che ha preso i cooldown che ha assorbito il reinserimento questi pugni nelle mani i danni ai danni di Dan perdonatemi questo gioco di parole però era purtroppo obbligatorio e anche le attenzioni di Larsen il fatto che non si sia limitato al bersaglio più vicino ma che si sia reso conto della durata dell'addormentamento di Lilia e quindi ha potuto disparare i danni tra Cecola e The Crys senza nessuna preoccupazione di perdersi per strada questa è stata una grande azione Trimby ci prova voglio trovare qualcuno fuori posizione oh quanto sta rischiando addormentato è stato bello finché è durato grazie e arrivederci Trimby per favore basta ingaggiare così Trimby per favore stop it get some help 0-3-4 3 morti 3 imbarazzi il problema è che quando muore muore senza fare niente di utile e quando sopravvive invece catalizza un'azione da solo e fa vincere il team fight al suo team penso che siamo di fronte al primo coin flip più grande di Ilisang mai visto all'interno della corsia inferiore europea non esageriamo perché maestro Ilisang ne ha da insegnare su queste cose ne ha da insegnare ma Trimby ci sta dimostrando degli estremi più grandi degli estremi più distanti tra di loro immaginati però quanto sarà alto il picco allora in positivo spero che lo sia perché vabbè in questo caso comunque non sono tanto preoccupato beh puoi solo salire da qua perché se questa è la prima performance Foto Amne sulla corsia superiore Kryze cerca di contestare ma un'ondata potenziata dal Barone contestata da Ivern non è proprio il massimo non un campione noto per il Wave Clear non un campione noto per poter gestire Baron Wave bolla della nanna C'è colat però non può esporsi troppo in tutto ciò è stato completato l'Infinity Edge da parte di Larsen niente Quick Blade of Navori ok oh ciao Patrick è stato bello finché è durato Patrick è morto nel frattempo da parte di un 1 contro 2 da parte di Ansama non connettono le Skate Shot da parte di Zoe e questo significa che l'inseguimento di Kalista nei confronti di Aphelios porta Aphelios ad una morte piuttosto triste c'è colat da guardare ha detto vabbè non scatterà mai in avanti sarebbe follia utilizza tutte le spell dice oh mamma è davvero scattato in avanti e adesso l'Uncino cercheranno il follow up due inibitori facili facili decidono di non ingaggiare almeno per ora zonano soltanto gli avversari perché due inibitori fanno tanto comodo arrivati a questo punto visto che ci sei il barone Nashor sta per finire ti rendi conto che non puoi più assediare andiamo al drago dell'oceano togliamogli quell'anima giusto per essere sicuri assolutamente gli XL sull'anima oceanica possono impostare una condizione di rimonta stallare la partita all'interno della propria base cercare di zonare gli avversari e sfruttare i due inibitori caduti per far pushare le ondate di super minion verso la loro metacampo e recuperare il più possibile a livello monetario che poi recuperare il più possibile ne servono davvero tanti di super minion per colmare 10.600 unità di distacco mi permette un velocissimo off topic ma quanto è bella la grafica degli inibitori sul lato inferiore a destra è molto più immediatamente godibile devo dire molto più snella per che altro capisci subito quale lane è quale mi piace da sinistra a destra più in orizzontale che in verticale ok per adesso stato della partita purtroppo non riescono a trovare gli spiragli per inserirsi gli excel nonostante la groomstone build sia stata completata da parte di ivern nonostante udir abbia tanta tankosità e tanta velocità di movimento e la concentrazione nell'orizzonte permette a zoe un eventuale 100-0 sui carry zoe non trova i carry con le bolle comunque udir non si sta riuscendo ad inserire questa è una situazione che porta gli excel a giocare praticamente con la coda tra le gambe tanto al punto di inciamparci in quella coda perché per adesso sono chiusi nella loro base e non stanno riuscendo neanche ad allontanare correttamente le ondate non è proprio la cosa più semplice da fare quando due campioni non sono dedicati a fare questo e vedere ivern si è divertente in top lane allo stesso tempo metti tutte le responsabilità su Aphelios e fa un po' male il vantaggio di ivern top lane è che se perdi puoi dire che stavi limit testando o che è colpa del tuo tiratore parlando di tiratori qui Patrick utilizza il cespuglio per pulire in fretta l'ondata comunque la visione è negata da parte degli avversari è vero ma le ondate di super minion stanno avanzando e quindi qualcuno dovrà occuparsene i bugi non durano abbastanza per difendere ancora questa struttura Rogue che continueranno a premere continueranno a infastidire Cekolad quello è un singolo semirotolante e gli ha tolto un quinto di vita bene è la Lilia da maschera quindi non è una Lilia supportiva è una Lilia che vuole picchiare quello chiaro Trimbi pronta l'ingaggio si lancia in mezzo a 5 troverà lo stordimento non in tempo poco importa perché il rallentamento permette l'inserimento di Odoan e i Rogue ora chiudono facilmente il fight un liscio pazzesco da parte di Patrick per concludere una veglia lunare che di veglia aveva veramente poco adesso con il push di Ansama grazie al clear dei minion decide di andare direttamente per la struttura poco gli importa tanto dovrebbe essere facile concludere se non saltasse in faccia a Patrick e quasi ci stava per morire Lars finalmente decide di andare per l'olino e lo ammazza cade insieme a Cekolad doppia uccisione trovata l'usian Q del game e i Rogue arrivano sul tabellone un primo punto contro degli XL creativi però non presentati in campo bella performance da parte dei Rogue i Rogue che ci ricordiamo e forse in una versione anche potenziata questi Rogue allora intanto hanno blindpickato Kennen che è praticamente il biglietto di presentazione di Odoanne quindi abbiamo un Odoanne che comunque come abbiamo già sentito Reckless decide di fare il suo debutto all'interno di questo split all'interno di un nuovo team su una zona di comfort su un campione che sapeva di poter pilotare bene l'azione conclusiva è stata molto buona ma è stata anche frutto di un vantaggio di risorse semplicemente insormontabile XL no mi dispiace ma il problema è che nonostante Ivern top è Udir quello che mi che mi ha infastidito in questa partita perché Udir non ha fatto letteralmente nulla ok come fai a gancare top con Ivern hai l'unico setup che letteralmente o prende il catturadice oppure non riesce a fare niente bene passiamo alla mid lane come fai a gancare Lucian bolla della nanna può schivarla senza problemi con uno scatto andiamo alla bot lane trash il matchup purtroppo non è positivo perché comunque hai la pressione d'early game di Kalista che va a contrastare quella di Aphelios e poi il mismatchup tra set e trash come supporti il problema è che Udir doveva cercare allora di applicare pressione su queste ondate anche solo a garantire la rottura del congelamento topside una cosa che ad esempio non ha mai fatto la pressione di Corsi è la priorità di Ivern che è stata forzata e che quindi ha impedito ad Ivern di setupare un gank per Udir è una priorità che ha permesso a Kennen di gestire alla perfezione le ondate non hai mai rotto i congelamenti non hai mai forzato niente sulle corsie tramite messaggeri tramite anche solo duoprox anche solo un trash che prova a settare un dive non ci sono stati tentativi capisci è questo che mi ha purtroppo lasciato con l'amaro in bocca non è il fatto che i tentativi siano falliti è che non ci sono proprio stati sono d'accordo voglio però ancora spezzare una lancia in favore di Odoamne e dare più meriti a lui per aver congelato così bene gestito le ondate così bene a confronto con quella che era la posizione di Udyr in giungla perché ha giocato molto attorno a quello la top lane la top lane è una lane in cui se riesci a congelare hai automaticamente vinto non solo se riesci a congelare con le tempistiche giuste vedi ad esempio Udyr sul lato inferiore di mappa e comincia a congelare tu sai che per i prossimi tre minuti il top laner è all'inferno e guarda la lane e dice vabbè che devo fare vado a casa o vado a fare un giro e voglio dare un approfondimento anche teorico su quello che è successo perché Odoamne è stato in grado di congelare così bene le ondate perché Ivern è un campione privo di waveclear è un supporto da giocare in giungla e non pulisce la giungla semplicemente la va ad assorbire con la sua passiva non avendo waveclear e maxando lo scudo il semina scudum l'unico modo che Ivern ha per pulire efficacemente le ondate e forzare priorità è mettersi lo scudo addosso entrare in mezzo ai minion e farsi detonare in mezzo ai minion stessi questa azione mamma mia è stata il festival degli spaghetti sembrava un manichino portato a spasso non so neanche come definire quello che abbiamo visto il festival degli spaghetti e ti stavo dicendo appunto il pattern di clear di Ivern deve obbligatoriamente se vuoi avere priorità danneggiare sia i minion caster che quelli corpo a corpo Odo Amne appena si è reso conto di come Ivern stesse impostando la corsia ha deciso di danneggiare solo i minion corpo a corpo facendo accumulare i minion caster da parte dell'avversario e di conseguenza l'ondata veniva sempre congelata a suo favore e queste azioni sono state invece il frutto di quello che i rog avevano raccolto abbiamo parlato tanto dei rog che stavano stallando troppo le partite che stavano stallando troppo questo early game ma punto primo sono i rog quindi lo fanno lo sappiamo il loro stile di gioco punto secondo l'hanno messo a frutto assolutamente e infatti volevo arrivare poi a parlare della corsia inferiore di quante risorse sono state accumulate da quella calista la quantità d'oro preso dal primo mattone topside perché hai strozzato Ivern dalle risorse l'hai daivato l'hai zonato ulteriormente dopo che aveva perso la struttura quindi non poteva esporsi si è creato un divario tople in gigante soltanto per la mera esistenza di quella prima struttura presa e poi il calista è tornato a botto e si è preso un'altra struttura per intero tre placature e quindi non le altre due quindi per intero tra virgolette comunque sono soldi sono duemila gold presi così con uno schiocco di dita per un tiratore e non solo abbiamo anche un'altra conferma da questa partita perché con l'inserimento ufficiale in competitivo di Ivern Top sappiamo che il miglior coach della storia d'Europa è Fieric ormai è palese ragazzi scusate ma è di fronte ai nostri occhi è una cosa che dobbiamo osservare detto questo e tornando un attimo su dei toni un po' più seri o quantomeno seriosi penso che a un certo punto non ci fosse proprio più niente da fare da parte degli Excel sul controllo di mappa perché quando hanno perso il quadrante superiore quando c'è stato quel fight l'ultimo che abbiamo visto nel replay che ha permesso ai ROG di applicare costantemente quella visione profonda e abusare di un eventuale check da parte degli Excel lì è dove ho notato veramente spegnersi la mappa degli Excel smettere di provarci quello che ti dicevo prima quello che è stato poi la vera colpa degli Excel in questa partita perché non è neanche una partita dove mi sento di condannarli nonostante abbiano hanno dato l'impressione non hanno giocato veramente male hanno dato l'impressione di aver giocato male quando in realtà era semplicemente una situazione di gioco dove non potevano fare nulla ci si sono cacciati loro ma l'errore grande era solo uno molto punito ma era solo uno forse con con qualcosa di diverso in corso centrale magari un po' più wave clear un po' più controllo quel classico mago tipo Victor o Rihanna avresti potuto fare di più perché avresti avuto un wave clear un pochino più presente Zoe deve sporsi per wave clear e allora mi devi bannare Lucian eh sì per forza infatti di solito Lucian l'abbiamo visto bannato per questo motivo perché ti permette di giocare tranquillamente un tiratore in botlane di qualsiasi tipo e poi ci metti Lucian in mid ma direttamente dalle sue over estensioni sulla landa abbiamo con noi Trimby in intervista Trimby come ti senti riguardo al tuo primo gaming lc beh sinceramente non ci aspettavamo di certo quei pick da parte loro non mi sono concentrato molto su quello ho cercato di essere il più utile possibile per il team purtroppo stavo giocando un pochettino all'interno della partita e ho iniziato a morire senza ragioni plausibili beh penso che questa sia la tua opinione alla fine a mia opinione hai giocato molto bene sono molto felice di vederti giocare in questa lega stiamo parlando di un team che comunque ti vede guidato da tanti veterani come ti trovi all'interno di questa squadra beh sì mi sono stavo parlando di questa partita dove mi sono sentito un pochettino al di sotto ma nonostante io mi stessi sentendo inutile i miei alleati stavano continuando a tenermi su di morale a motivarmi sono molto felice di giocare con loro e trovo che sia un team molto bello in cui trovarmi penso che per me sia anche una grossa occasione per poter portare a casa quanta più esperienza possibile da parte di questi giocatori che mi circondano non riesco ad aspettare per vedere più partite da parte tua molti ti avevano definito ti hanno definito come uno dei supporti più promettenti e parlaci un attimo dei tuoi obiettivi quali sono i tuoi obiettivi all'interno di questo split beh senza ombra di dubbio devo fare più allenamento su set sto cercando di perfezionare ancora il pick quindi sto cercando di allenarmi il più possibile ed è anche questo uno dei motivi per i quali non l'ho giocato così bene ho semplicemente bisogno di pensare molto di più alla partita nella sua totalità rispetto a quanto facevo prima nelle leghe regionali devo cercare di trovare le mie zone di comfort all'interno della nuova formazione e all'interno dell'ecosistema degli LDC penso che possa essere un po' difficile per me abituarmici subito ma farò del mio meglio per abituarmici nel miglior modo lungo lo split e sono molto felice che mi abbiano dato l'opportunità di giocare qui beh non posso che sperare che tu riesca a raggiungere il livello che arrivi a soddisfarti perché mi rendo conto che qui è più una questione di cosa ti aspetti da te stesso ma adesso parliamo anche dei tuoi avversari chi è che non vedi l'ora di affrontare beh senza ombre di dubbio voglio affrontare i G2 voglio vedere come performare contro di loro e subito dopo i Fnatic perché mi rendo conto che per noi sarà una sfida e per me nello specifico voglio cercare di mettermi in mostra e mostrare il mio miglior livello voglio rendermi conto voglio tenergli testa voglio non vedo l'ora di affrontarli e vedere cosa succederà beh quindi sarà il tuo matchup contro il professor Illissang da parte tua beh grazie grazie dell'intervista e da parte mia un grosso benvenuto qui nell'IC che carino sì anche qui vediamo appunto sono Ruki è il loro primo match per tantissimi di questi giocatori ragazzi vi abbiamo parlato di una nuova generazione di Illissi vi abbiamo parlato della nuova pagina competitiva globalmente parlando tantissime leghe vedono nuovi team al suo interno nuovi giocatori arrivare proprio dai ruki dai giovanissimi e questa non può che scaldare il cuore come intervista perché sono tanto tanto determinati ma signore e signori la serata esportiva non finisce qui a breve avremo il quarto game di questa serata di Illissi ma ora è il momento di un break è il momento di un KitKat a fra poco le sistemi sono overloadi non possiamo rischare un altro game bisogna prendere un break e regroup stiamo iniziando perdere la nostra mente capitan capitan we cannot go back to elo helm last time it took us months to get out of it initiate break protocol hurry up even the biggest champ needs a break non 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 non